Mi chiamo Marco, da piccolo avevo un sogno, correre e giocare come gli altri bambini, ma non potevo. Per tanto tempo ho cercato una sola cosa, un cuore tutto mio. Poi un giorno tutto è cambiato, perché invece di trovarne uno, ne ho trovati molti di più. Grazie al cuore di tante persone, oggi Marco ne ha uno. E tu, un cuore ce l'hai? Sostieni l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dona due euro con un sms al 45501 o chiamando da rete fissa.